Monti d'Abruzzo che hanno chiuso la stagione italiana del tiro a lunga distanza. Presso il poligono di Tiro Valmara nel comune di Roio del Sangro si è svolta infatti la seconda finale nazionale del nono campionato per le categorie Entry Plus Specialist. La prima finale che si è svolta a Roma a fine luglio ha decretato i campioni italiani per la categoria FTR e quella Open. La buona riuscita della manifestazione che ha visto la partecipazione dei 40 migliori tiratori italiani è stata possibile grazie alla partecipazione del comune di Roio e alla piena disponibilità del gestore del poligono, nonché presidente dell'SD Valmara, Sabatino Di Carlo. Le qualifiche per accedere alle finali nazionali si sono svolte nei sei gironi Lazio, Abruzzo, Sicilia, Piemonte, Campania e Toscana che ad oggi ospitano gli unici sei campi autorizzati dall'Unione Italiana Tiro Sportivo allo svolgimento dei campionati italiani di tiro a lunga distanza. Sul campo durante i giorni di competizione c'è stata anche la presenza del referente nazionale Bruno Rossi, i membri del consiglio nonché i migliori tiratori italiani come Paolo Bernini Vani, vice campione d'Europa e Claudio Caselli. La gara si è svolta in tre match giornalieri, la somma di punteggio ha decretato la classifica finale. Il campo di Roio del Sangro, splendido e panoramico, non ha fatto mancare difficoltà ai tiratori, tra cui un forte e non costante evento che ha messo a dura prova anche i più esperti. Per quanto riguarda i vincitori nelle varie categorie, in quella entry Giulio Calvetti, Plus Salvatore Piazza, Specialist Luca Sguerri.